o il brutto io ho accorto che si... guardate che avete filmato o cosa? filmato perchè sto parlando di farmi fare una foto lui è nato in camiontano, sa neanche cosa sia stai finito perchè quando gli capi il cazzo è morto ma fa culo? ma fa culo? ma fa culo? ho pareto no ma lascialo dentro lascialo dentro, lascialo fuori ci devi imparare un po' per la casa che fa un giretino no ma non muore mica la scomanda sta riprendendo mi grazie lasciamo stare che è meglio mi stai a fare quella che si immaginano la tagliate è un calcio non c'è parte del cazzo no no non è molto amore non sai capire come è la storia non puoi mettere no ma cosa ti senti? ti senti? no non è molto d'accordo ma sembrano quelle finte non mi stai chieste è giusto non è tanto sguardo fa conoscenza è non era tanto d'accordo non è consensibile è non è tanto d'accordo con la nostra casa ma nella fatti no hai gucken sai qualche se lo prendi per l'acqua e lo lasci a questa vibra non riesci beh non si tira questo maglino e dove è? questo maglino che vibra e cosa? non lo vedo ah ma va velocissimo ah sentite il rettile che c'è in voi come si agita tutto incattoso è structured è squamoso la scuola mi ha provato a seguirti la mano questa ruolata ormai l'ha capitato anche lui dove esce la mano guarda scusatò se la mano ti si può rustchiercare Sì, non è vero, non è vero.